musica 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 ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo mio nuovissimo video io sono alzer5ita e sono che oggi ho portato un nuovissimo episodio di brawl stars con menetto ok ragazzi oggi come come il video di ieri porteremo delle amichevoli eee niente almeno cioè cercherò cioè a parte di fare l'allenamento e più di vincere contro Diego che è un pro player vai facciamo contro vai ok vai non metto più Danamek se non ti kill ok ragazzi adesso vedremo se riuscirò a vincere che culo Danamek si io sei tanto si è spuntato vicino a me ma ti lento mi hai colto si ah comunque ragazzi vi volevo dire che oggi grazie a me letto e un pochettino anche grazie a me stiamo sono quasi arrivato a 1500 trofei adesso mancano davvero pochi trofei e niente e niente dov'è il mio amico ma perché io c'è un amico io in ciancio il porco piccino scappo qua c'è un carccio contare la cioccolatura ma dove è il mio amico è lì è lì è lì è lì vai o vieni sono qui su vieni sto svelendo dall'odore è morto è morto il mio amico geotime geotime bastardo il tuo botte ha ammazzato il mio amico visto che ragazzi mi raccomando iscrivetevi al mio canale lasciate like attivate la campanellina e niente anche il mio amico botte è morto anche il mio amico botte è morte è così ma ma è sprecato cosa che è ma adesso è morto ok ora gioco sul serio ora gioco sul serio ma gioco sul serio gioco sul serio guarda ma ti stracchillo ma ti chi vuole ragazzi adesso metterò lui mi fa vedere del sole dove si è sponato sotto ma vieni vuoi prenderti power up vieni qui ci sono dei power up vieni 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 qui ci sono dei power up vieni 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 si vai vieni ci sono dei power up ma se mi hanno ucciso mi hanno ucciso il mio amico amici qua di me letto amici di me letto sono killer lo sapevo doppia e ragazzi come potete ben vedere mi hai letto è davvero un pro player con dynamite con dynamite è qualcosa di fortissimo ragazzi ma quinto la partita non me ne frega punto basta non ce la faccio posso mordere tutto adesso faccio così metto lui ragazzi che si costano i miei brawler e dei buoni brawler jesse brock e il primo bombardista faccio berl e mortis ragazzi io ho 11 brawler 23 quindi faccio proprio schifo però cose che capitano il mio amico è morto provo a fare il doppio salto ci riesci si tipo qui e qui quasi qui e qui Diego cerca di fare un doppio salto come cazzo si fa non so non so ma andate a me a morire cioè quello non è morto ragazzi adesso potete vedere ci penso così vinto me letto quanto è forte io esco da qui ma chi hai messo? uno che spara da lontano ok ma me l'hai spesso da poco che schifo vabbè dai tanto perdi comunque un colso subruito ragazzi adesso faremo le ultime due partite e niente ne facciamo una vera cioè una partita di player se se riusci a kill dove sei te non vanno mi hai rubato i power up fai schifo mi hai rubato i power up fai schifo bravo bravo kill 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 che gay stavo saltando che gay stavo saltando che gay minchia guarda ora il mio amico si fa ammazzare che gay tu sei morto tutto? eh sì no 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 sì ora sì no un secondo no io porca traia dai dai vai vuoi cambiare bruller? io cambio bruller forse forse fammi vedere chiuso ma che cosa fa l'abilità del corpo non ho mai capito è tutta indolevo cosa fa? che cambiamo modalità modalità ieri o serio non ho mai gioco facciamo no questo no no che cazzo che dici questo un due o un solo? due 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 vabbè un solo vabbè mi hai messo da una macchina sì da dove si è spugnato in sopra cazzo io ti ho dato a farza vabbè ci becchiamo dopo cioè ti vedo qui in alto quando ti ammazzano allora sì sì mi ammazzano ma non ci credo vai a vendere il tonno va vai a vendere il tonno va ti ho dato a piper dai vieni mangiatore di tonno vieni venditore mangiatore è quasi chillato sì ma dai ha detto quasi io mi imbosco e io nella gambero c'è il mio bot il mio bot oh il tuo bot mi ha chillato il bot kill no minchia se il mio è il primo amore è bestemm perché io ti devo killare tu sei quello sopra tu dove sei tu sei camperoso guarda che secondo dov'è che sei tu qua sei in alto che sai Anita Anita è troppo forte Anita Anita si parca no 46 di vita 46 di vita ti kill ti kill non me ne frega ti kill no è morto il mio compagno adesso ma dai ma è morto adesso facciamo la partita normale no mi hai chillato te mi hai chillato la tempesta ti ho chillato io ti ho chillato io non si può fare neanche il replay mi sa mi hai chillato te si no mi hai chillato la tempesta ti ho chillato mi hai chillato la tempesta che sono andato sopra che avevo 700 di vita va bene ragazzi sai questo video qui si conclude no 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 faccio l'ultimo no 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 ah perfetto dai vai faccio io Danamike e tu Danamike e non ce l'ho Danamike vabbè io corvo e tu corvo tu fai morti si o Danamike mi strachilli cosa face prima killiamo tutti gli altri stiamo vicini e dobbiamo avere gli stessi paurato e poi ci nascondiamo tipo va andiamo vicini subito dimmi dove sei nato non ti ammazza dimmi dove sei no non sta mappa porca ok sei qui già quindi il mio amico apre le casse ma cazzo ma perché in due no no facciamo che questa qui non vale vai 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 Diego Diego sono qui io sono qui io sì sì vai vai ammazzano ammazziamoci ok vai fatti ammazzare io vabbè ma finché c'è il nostro compagno no ho sbagliato mappo e poi pure in due ok stai ancora vivo mi sto per far uccidere la magetta mi hai letto mi hai letto fai salti dai gigante e teghelle ok vai fatti uccidere così facciamo quella lì bella vai veloce sto cercando ma non ci credo bravo mi inchiamò questo qui ora che muore 10.000 di vita che palle ma sì dai facciamo questa qui dopo la facciamo bene ok allora techillo dove sei è un boscato ok io sto per uccidere un buon barattino faccia bianca scontro finale scontro finale che vincere qui oh 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 e da che lato ti ho messo paura però facciamo la partita normale eh no eh sì non è questa quella bella hai detto ma bastardo vai ora c'è quella bella allora cosa metto torrente anzi tu bombardino allora io prima io da una mic tu mortis poi io mortis poi e tu coso e tu bombardino va bene ok metti mortis la messa in su ok vai metti pronto stiamo vicini killiamo tutti e dopo stessi numero di power up dove sei te io sono sotto e te sei dall'altra parte vieni di qua dove c'è il fiume vieni vieni vai per la casa vieni vieni sono sul fiume anzi vieni in mezzo ok sei te si prendi gli altri due no no ma che cazzo ma ce la fai scusa ammazza il bombardino prendo io questo ok ora tu ne hai un in più di me tu quanti ne hai 4 ok quindi questo è mio ok dimmi sempre quanti power appare 4 ok fermo prendilo te quello ok io prendo l'altro dico di ora già ce ne ho fermo fermo minchio ma te ok prendi quello il prossimo è mio ok io vado a prendere sta nita qui tanto scappa ok ok tu quanti ne hai 6 ok io prendo questo tu prendi il prossimo boom bam 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 ma qui c'è uno dentro per babà si si vieni 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 qui vieni qui ma chi ti vuole lì ti vuole fuori attento che ti ammazza ti ammazza è bull è bull se cazzo allora fermo lo faccio io lì ma chi ti vuole cosa non l'ho fatta posta no cosa l'ho 1 600 fermo 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 ok killato te scappa faccio io no no ok quanto è 1 prendilo prendilo fermo ok dobbiamo killare solo pochie 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 guarda che vado io no 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 leva minchia scusa 7 7 7 ora te fermo fermo vai qui vai lì dove ho buttato le bombie guarda che lì c'è un power up no non lo prendere vai vai sotto il muro lì ecco pronti via tramite la sfida va bene ragazzi il video si conclude qui mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate like e bella raga ciao 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 ciao